L'aloe vera è una pianta succulenta con foglie carnose in grado di immagazzinare una grande quantità di acqua, molto conosciuta per le proprietà teoropetiche ma coltivata anche a scopo ornamentale in vaso e in piena terra nelle zone a clima mite. Quindi che vogliate coltivare la vostra aloe per le qualità benefiche della sua polpa o semplicemente a scopo ornamentale ecco alcuni pratici consigli che vi aiuteranno. Le piante di aloe richiedono molta luce l'ideale quindi è posizionarle in zone soleggiate o in ambienti se tenute in casa molto molto luminosi. Cresce bene nelle regioni a clima mite, in zone a clima freddo invece è bene coltivarle in vaso per portarle al riparo in inverno. Non sopporta infatti temperature inferiori ai 5 e 7 gradi che possono portare a imbrunimenti e marcescenze. Per aumentare la resistenza della pianta a condizioni climatiche avverse come l'abbassamento di temperatura possiamo irrigare il terreno con la specialità a base di alghe marine algatron. Per quanto riguarda invece le annaffiature l'aloe è una pianta che richiede delle bagnature regolari ma non abbondanti. In primavera estate andremo ad innaffiare la pianta ogni 8-10 giorni evitando comunque che l'acqua si depositi vicino le foglie sulle foglie o che ristagni nel sottovaso. Mentre in autunno e in è consigliabile ridurre le annaffiature in maniera graduale fino a sospenderle addirittura nel periodo invernale. Andremo a rinvasare la nostra pianta di aloe in primavera ogni anno, ogni due anni. Molto importante sapere che l'aloe non è una pianta che richiede dei vasi molto grandi, quindi andremo a posizionare la pianta nel vaso utilizzando il terriccio specifico per piante grasse, cacten e torfi. In questo modo si assicurano quindi si assicura il drenaggio ideale. Sul fondo del vaso mettiamo sempre dell'argilla espansa e posizioniamo quindi la pianta nel nel vaso. Finiamo quindi di mettere il terriccio per riempire il vaso e compattiamo il terreno intorno alla pianta in questo modo qua e richiamo senza bagnare sempre cercando di non bagnare le foglie. L'aloe vera, al contrario delle altre varietà di aloe, si sviluppa verso l'alto. Col tempo aumenta di dimensioni, le foglie divengono via via più grandi e ne nascono anche delle altre piantine qui alla base della pianta madre. Per propagare l'aloe è sufficiente staccare queste piccole piantine che si formano alla base e con le loro radici e piantarle in altri vasi, sempre con del terriccio specifico per piante grasse, cacten e torfi. Per consentire una rapida crescita vegetativa e un corretto sviluppo della pianta andremo a concimare con il concime specifico per piante grasse e granverde, utilizzando la dose indicata in etichetta in acqua e irrigando quindi poi il terreno della pianta. In questo modo qua. L'aloe è una pianta particolarmente soggetta ai marciumi basali. I marciumi sono causati da funghi patogeni e sono spesso favoriti dai ristagni di acqua o da innaffiature eccessive. Si manifestano con il marciume della parte basale delle foglie oppure con la comparsa di imbrunimenti nella parte superiore delle foglie. Per prevenire e curare questi marciumi conviene trattare la pianta con fungicida e promag. Andremo a diluire il quantitativo di fungicida e il dosaggio indicato in etichetta in acqua e con la soluzione ottenuta andremo a irrigare sempre il terreno della pianta. Questo fungicida è un fungicida sistemico quindi che entra nel circolo della pianta e la protegge quindi dalle radici e protegge anche tutta la parte superiore quindi le foglie della pianta. L'aloe vera è una pianta che è sempre stata accompagnata da un alone di mito e di leggenda tanto che alcune delle più antiche civiltà la veneravano per le sue proprietà guaritrici. Oggi dalle foglie di aloe si estrae il succo che una volta lavorato ha molteplici proprietà terapetiche e viene molto utilizzato nella cosmesi in caso di scottature o di ustioni solari. In generale in situazioni in cui c'è necessità di rinfrescare o reidratare la cute.